Eccoci, buongiorno, non mi vedo ancora bene, spero di essere on air, come si dice, benvenuti anche oggi, oggi 11 marzo giovedì, domani saranno cent'anni dalla nascita dell'Avvocato Agnelli, grande imprenditore, grande finanziere, grande uomo di stile, di charme, avremo occasione di parlarne con l'ospite di domani che è Claudia Gerini, giusto per ricordare la ricorrenza di un uomo che diceva e veniva considerato il re d'Italia, quando le cose vanno bene per la Fiat, vanno bene per l'Italia, non lo so se le cose sono esattamente così, resta il fatto che ogni tanto si parla di grande impresa, grande finanza, movimenti dei mercati italiani, europei, globali, poi c'è l'economia spicciola, spicciola neanche tanto, nel senso che riguarda tutti noi e che a seconda dei nostri patrimoni, dei nostri redditi abbiamo a che fare poi con interlocutori che qualche volta non si comportano benissimo, parlo dei tanti soggetti con cui un cittadino entra in contatto, la pubblica amministrazione da una parte, le compagnie telefoniche quando ha a che fare con i telefoni, le aziende che somministrano servizi, energia elettrica, gas, le aziende alimentari che ti vendono la pasta o altri prodotti e quindi bisogna stare attenti a che cosa c'è scritto sulle etichette, poi stamattina apro il mattino di Napoli e durante il lavoro che faccio di lettura dei giornali per andarmi a cercare anche spigolature divertenti e scopro che in un tribunale c'è una causa civile che riguarda la proprietà di un immobile neanche tanto grande al centro di una contesa ereditaria, questa causa civile è stata iniziata nel 1966, sono passati 55 anni e non c'è ancora la sentenza di primo grado, uno vorrebbe dire, ma che le paghiamo a fare le tasse per avere una giustizia che funziona così e soprattutto quando usciamo per fare la spesa, quando paghiamo le bollette, quando paghiamo gli abbonamenti etc., non è che dall'altra parte ci marciano, bene, dopo questa piccola prolusione è il momento di dire che l'ospite di oggi è titolato a parlare di questi argomenti perché è a capo della, secondo me, più seria associazione di tutela dei consumatori, che è l'Unione Nazionale dei Consumatori, che è nata nel 1955 ed è con noi l'avvocato da Roma, Massimiliano Dona. Buongiorno Dona. Ciao, buongiorno Antonello, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto ci diamo del tu perché ci conosciamo, poi qui è uno spazio informale, non so se avevi sentito di questa notizia, di questo procedimento civile iniziato nel 1966 e non ancora arrivato a sentenza di primo grado, in 55 anni. Era una causa ereditaria, era una causa ereditaria in tutti i sensi, perché sarà passata anche di mano in mano, immagino, visto il tempo trascorso. Presumo che alcuni dei principali eredi siano nel frattempo morti, quindi probabilmente magari le quote di legittima o i titoli su questo immobile si saranno tramandati ai discendenti, ma parlo all'avvocato, prima che al capo dell'Unione Nazionale dei Consumatori, la giustizia, soprattutto quella civile, vive purtroppo di cause pendenti che nell'ordine, diciamo in Italia siamo nell'ordine credo di milioni di cause pendenti o sbaglio? È proprio così, ma la cosa più drammatica Antonello è che le soluzioni che negli anni sono state proposte sono soluzioni volte non ad accelerare i tempi, a efficientare il sistema, a riconoscere giustizia, a chi la chiede, perché noi prima sorridevamo, ma dietro quegli anni trascorsi da quella causa lì ci sono istanze, aspettative, persone e possiamo capire il danno che si arreca a costoro. Ma le soluzioni che sono state adottate nel frattempo sono aumentare i costi di accesso alla giustizia, per cui recentemente, 5-6 anni fa, si è pensato che aumentando i bolli, le tasse, per dirle in modo semplice, per cominciare un processo si potesse trovare una soluzione, che in realtà è un altro modo per denegare giustizia a chi la chiede, soprattutto, e poi ne parleremo per le questioni che riguardano i consumatori che sono di piccolo importo. Si è pensato alla valvola delle mediazioni, ma la mediazione, cioè l'incontro obbligatorio tra le parti prima di cominciare un processo, ha un senso se è un momento vero in cui le parti si confrontano, se è l'ennesimo burocratico passaggio prima di accedere al processo, ancora una volta si allungano i tempi. Insomma, la crisi del sistema giustizia io credo che abbia molto a che fare con i diritti civili delle persone, come si dice spesso, una giustizia troppo lunga è una giustizia negata. Totalmente d'accordo. Dunque, ho invitato l'Avvocato Dona, Massimiliano Dona, appunto nella sua veste di capo dell'Unione Nazionale dei Consumatori, figlio d'arte perché l'Unione Nazionale dei Consumatori è stata fondata dal suo papà, ripeto, 1955, per fare il punto di quelle che sono le possibili fregature, scusate il termine è piuttosto grossolano ma ci cambiamo immediatamente, a cui in questo momento i consumatori sono esposti. ci sono tanti modi di essere esposti da parte nostra come cittadini consumatori, anche solo nei confronti del mondo della rete, attraverso l'accessione dei dati che facciamo ai big del web che ci promettono, Dona e ci dicono, ci assicurano che il web è gratis, è tutto gratis, che allora poi uno si dice, ma se è tutto gratis, no? Cioè se io che accedo, che uso, accendo il computer, è tutto gratis, siccome i più grandi economisti ci hanno insegnato che nessun pasto è gratis, mi chiedo anche se tutto è gratis, i grandi del web come riescono a fare i loro fatturati miliardari? O sbaglio? A cominciare da Facebook nei cui confronti, Dona, mi pare, abbiate pochi giorni fa riportato un importante successo, avete conseguito un importante successo, o sbaglio? Se tutto è gratis, il prodotto siamo noi, questo è un vecchio adagio della rete al quale non dovremmo mai abituarci. I consumatori moderni trascurano che paghiamo un prezzo in termini di informazione, ma Antonello ne dico un'altra, forse ancora più sottile. Qui c'è una guerra che ha come bottino l'attenzione di ciascuno di noi e tutto questo tempo che noi trascorriamo sulle piattaforme ha un costo anche per il consumatore. A me non piace fare contrapposizioni da social dilemma, ma un po' più di consapevolezza quando ci muoviamo online è assolutamente necessario, anche perché considera che soprattutto su Facebook, la piattaforma che hai citato tu, c'è un pubblico anche un po' in là negli anni, qualche mese fa si è scritta la mia mamma che è ben oltre i 70 e io ho addrizzato le orecchie per la preoccupazione perché anche quei messaggi che a tutti noi sembrano chiaramente dei fake come sono, la classica truffa del principe nigeriano che ha un'eredità per riscuotere la quale ha bisogno che il povero consumatore li mandi dei costi notarili, ma poi la promessa del principe nigeriano è quella di condividere questa eredità con tutti noi, naturalmente un consumatore medio sa che si tratta di una di una frode e di un raggiro e questa è l'obiezione che spesso mi muovono Antonello, mi dicono ma chi crede a queste cose? La risposta però è questa, quel tipo di messaggio, ma vale per il phishing, per lo spamming che riceviamo quotidianamente con quei messaggi tradotti anche malamente in italiano, servono per segmentare un mercato, è chiaro che io e te non crederemo mai a quel tipo di comunicazione e per il truffatore è un bene che noi non abbocchiamo perché quella comunicazione anche così grossolana, quella truffa così appariscente serve a selezionare dei consumatori che invece credono a quei raggiri, quindi non crediate che quelle truffe non colgono nel segno e non sarebbe così diffuso lo spamming, il phishing anche tramite sms perché parliamo spesso della rete, ma quei messaggi ci raggiungono anche sul telefonino, servono appunto a selezionare tutti quei consumatori che spesso, lo devo dire, cercando l'affare, cercando di fare i furbi, cercando di comprare uno smartphone da 1000 euro a 500, chiaramente cadono in questi tranelli. Stai citando quello che è il terzo settore per quantità tra i reclami che riceviamo sulla nostra piattaforma consumatori.it, al primo e al secondo posto però c'è la vecchia economia, al primo posto problemi con le bollette telefoniche, al secondo problemi con le bollette energetiche. Ecco, su questo fronte due cose, siccome tutti noi abbiamo in mano uno smartphone, anzi la battuta è non è che un italiano possiede due smartphone, ma due smartphone possiedono un italiano di solito, ho notato, butto lì delle suggestioni da consumatore, però così ci capiamo, prima di parlare ad esempio di come è finita la vicenda delle bollette a 28 giorni, perché lì mi sono un po' perso, ma adesso ci arriviamo con calma. La bolletta 28 giorni, la condanna di Sky, perché durante il lockdown mi pare, lo so da abbonato Sky, non ha avvisato cosa l'abbonato poteva fare per chiedere il rimborso per la mancata trasmissione delle partite di calcio che erano sospese causa Covid, anche qui ci arriviamo con calma. Però all'Avvocato Dona volevo chiedere, io ho notato che ricevo tante telefonate sospette, prima arrivavano solo da numeri con un prefisso da telefono fisso, 0206, 031, 055, adesso le telefonate che lo stesso smartphone mi segnala talvolta come spam arrivano anche attraverso numeri mobili. La mia domanda è, immagino già la risposta, ma questo mio numero, quelli come fanno ad avercelo? Evidentemente credo forse inconsapevolmente ogni volta che io accedo a un'app o scarico un servizio o mi scrivo da qualche parte, immediatamente quando loro mi chiedono il consenso, fra le varie clausole c'è anche il fatto di potersi scambiare il mio numero come se fosse una figurina panini, è così? Questo è uno dei tormenti che i consumatori vivono quotidianamente, il teleselling selvaggio, il telemarketing, le chiamate a tutte le ore. Per essere onesti cominciamo ad assumerci le nostre responsabilità. La domanda che mi hai fatto tu, ma dove hanno preso il mio numero è quella che veramente mi sento riproporre tutti i giorni. Un po' è colpa nostra, c'è una prima parte di leggerezza del consumatore. Tu sei un uomo come me che girava, quando era possibile girare, quante volte in un hotel magari di livello elevato, un hotel di business, all'arrivo al desk ti sei sentito dire, dottor, tre firmette qua. A parte che a me già solo sentire parlare di firmetta mi fa uscire di testa e mi indispongo subito perché firmetta sarà la tua, preferisco l'ironia romana che mi dicono un autografo, perché la firma sembra secondario ma non va sottovaluta. Quando la chiamano firmetta è un modo per dire guarda non conta nulla, se non conta nulla non te la metto. Io rispondo sempre così, la gente si nervosisce, ma do un messaggio. Le tre firmette Antonello Pirosso sa benissimo che non sono obbligatorie per legge. La prima la richiede, non si sa bene perché, ma la questura perché vuole sapere dove dormiamo la notte, diciamo retaggio di un passato, ma va bene, la prima è obbligatoria per legge. Ma le altre due firmette sono una per consentire alla catena di fare pubblicità, la seconda per consentire alla catena di cedere a terzi quel numero. Al supermercato quando frettolosamente ti chiedono di sottoscrivere una tessera fedeltà alla cassa con le buste della spesa, il cliente dopo di te che arriva, la firmetta che metti ha preflaggato su quel modulo un consenso ad utilizzare il tuo numero di telefono. Quindi per rispondere alla tua domanda una prima responsabilità è di noi consumatori che il numero di telefono non dovremmo darlo a nessuno e un po' siamo leggeri. Ma poi c'è un aspetto invece truffaldino, cioè di numeri sottratti fraudolentemente a noi consumatori. Da quell'operatore che in buona fede, al quale concede il consumatore in buona fede il numero, ma che poi ne fa un uso distorto. In più c'è un altro elemento sanzionato dal garante privacy, cioè quel tuo numero lo usa il precedente operatore, che non avrebbe diritto di rifare commercio, di fare retention, di richiamarti su quel numero, perché nel momento in cui tu hai cambiato operatore telefonico, lui quel numero non lo potrebbe più usare. Ma vengo al dunque. Le sanzioni del garante privacy, anche nel massimo editale, nel massimo della pena, evidentemente non pareggiano l'illecito guadagno di questo teleselling selvaggio. Non ce la prendiamo, è inutile dirlo, con il poveraccio che ci chiama, quello è anche un lavoratore sfruttato a sua volta dalla catena di call center. Ma c'è poi un operatore di call center scorretto e dietro di loro un investitore, una grande company che ha chiesto di fare quelle telefonate. Tutto è nato nel 2010, quando la regola era. Nessuno mi può disturbare, salvo che io non consenta, non etichetti il mio numero come richiamabile. Se ricordi, sugli elenchi del telefono dell'epoca, vicino ad un numero che accettava di essere sollecitato, c'era una piccola cornetta del telefono, parlo dell'elenco cartaceo, che indicava che quel numero può essere chiamato. Nel 2010, grazie alle lobby del settore, si decide di invertire la situazione. Cioè fino ad allora nessuno poteva chiamarti tranne che tu lo autorizzassi. Nel 2010 si ribalta la regola. Possiamo chiamare tutti i numeri tranne quelli che dichiarano di non voler essere disturbati. Piccolo escamotage dell'epoca fu quello di creare un registro delle opposizioni dove tu potevi segnalare di non voler essere disturbato, ma di fatto di farlo funzionare male. Perché quel numero, quel registro non consentiva e tuttora non consente di registrare i numeri di cellulare. Cioè per farla molto semplice esiste un luogo pubblico. Il registro pubblico delle opposizioni è gestito da una società in house del Mise, quindi è una realtà pubblica, la trovate sul sito registro delleopposizioni.it dove tu puoi iscrivere il tuo numero, ma non i numeri di cellulare, perché quella legge ancora non consente di scrivere i numeri. Una nostra battaglia, una campagna tra l'altro che ha portato migliaia di sottoscrizioni, si chiama Non disturbarmi, ancora attiva perché quella legge che abbiamo ottenuto tre anni fa, Antonello non è stata ancora attuata, finalmente speriamo che nei prossimi mesi sarà attuata, quindi ci basterà iscrivere il nostro numero lì, tra l'altro per fare tabula rasa dei precedenti consensi, elargiti più o meno consapevolmente. Consapevolmente anche perché ad esempio io quando si poteva viaggiare, o almeno quando lo facevo io, magari prendendo un treno veloce per andare da Roma a Milano e ritorno, quando mi sedevo in treno e volevo continuare a navigare, ovviamente il treno cortesemente, gratuitamente mi metteva a disposizione la sorrina wifi chiedendomi di mettere la mail o il numero di telefono per mandarmi un sms di conferma. Credo che anche in quel caso ci sia... Sorrido perché questo è stato uno dei miei video più fortunati su TikTok, una piattaforma per giovanissimi dove ho un discreto successo pur non facendo balletti ma appunto dando contenuti informativi. Scendo da un treno e distinto impugno il cellulare faccio un video su questo. Quante volte ci hanno chiesto il numero di cellulare sul treno per non farci connettere, perché poi sfido chiunque recentemente li avevano un po' migliorati, ma quel wifi sul treno non funzionava mai. Il risultato è che tu del tutto consapevolmente concedevi il tuo numero per avere un servizio, il servizio non ti veniva fornito, il numero intanto l'operatore ferroviario lo aveva nella sua disponibilità. Hai raccontato una bella storia di come alla fine c'è questo grande assalto al numero telefonico online e pieno di siti che hanno pre-flaggato, cioè pre-segnata la casella in cui consenti la concessione del tuo numero. Questo è il tema dei dati e dal quale siamo partiti, tu parlavi del dominio delle piattaforme. Io credo che concedere i nostri dati abbia un senso se il servizio che mi danno è funzionale. Accettare la localizzazione ad un'app di meteo è chiaro che è funzionale al servizio. Se l'app deve sapere e dirmi qual è il tempo che c'è dove mi trovo io come utente, un'app di mappe di mobilità nel traffico è chiaro che il servizio di geolocalizzazione è funzionale al servizio, ma se mi chiede quella stessa app l'accesso alle mie foto, l'accesso ai miei contatti o quant'altro è chiaro che c'è una asimmetria. Spesso come consumatori non siamo molto consapevoli di questo, anche perché la società digitale è fatta di tap, click velocissimi. Fare il consumatore non deve mai diventare un lavoro. A me non piace mai richiamare i miei studenti a leggete i contratti prima di firmarli, perché alla fine dobbiamo anche vivere serenamente il nostro quotidiano di consumatori. Però è evidente che questo assalto ai dati è veramente il male del nostro tempo. Questo per quanto riguarda privacy, dati, eccetera. Poi c'è il rapporto che tu instauri, ad esempio con una compagnia telefonica. Rimango lì perché poi tutti noi abbiamo in mano tutto il giorno uno strumento che si chiama smartphone, tutti noi siamo e navighiamo in rete. Il tutto se stiamo pagando una compagnia telefonica la quale ci, fino a un certo punto, mandava la bolletta una volta al mese. Poi D'Amblè, le compagnie telefoniche, decisero di passare alla fatturazione a 28 giorni. Ora, io ricordo che il tempo di fatturazione può anche essere ti faccio una fattura all'anno, non ogni 28 giorni. Una volta che abbiamo stabilito che a fronte del servizio che mi offri il prezzo concordato è diciamo 100 euro all'anno o 120 euro l'anno, so che io ti devo dare 120 euro o te li do 10 euro in 12 mesi o te li do tutti in una volta ma sempre 120 euro sono. Invece con la fatturazione a 28 giorni, D'Amblè, noi avevamo in realtà una fattura in più. Com'è finita quella storia? Perché io mi ricordo che le compagnie telefoniche con questo giochetto hanno avuto un incremento di fatturato tutte insieme, lessi all'epoca di un miliardo di euro, più o meno, dato il numero degli abbonati eccetera. E poi quando sono stati invitati a tornare indietro e sono stati multati, la multa era per loro noccioline. Mi sono perso qualche passaggio, Dona, su questo fronte? No, niente affatto. Il punto è esattamente questo. Nel momento in cui il consumatore, i consumatori, l'intera comunità dei consumatori viene danneggiata per piccoli importi, gli strumenti di tutela oggi non sono efficaci perché su quella scorrettezza, ricordiamo gli operatori in sintesi stabilirono di punto in bianco una fatturazione settimanale. Quindi invece che mensile era ogni 28 giorni, sembra un dettaglio, ma tutti i giorni in più che poterono fatturare portarono un incremento di costo dell'8%, anche qui può sembrare trascurabile con un'inflazione a 0 o a 1, è chiaro che aumentare da un giorno all'altro dell'8% i costi fu un'operazione da un miliardo un miliardo e due. Sanzioni di Agicom, sanzioni di antitrust, procedimenti al TAR, impugnative, siamo arrivati persino in Europa, oggi è un dato di fatto che a tre anni di distanza, a quattro anni di distanza, quella pratica fu scorretta e quei soldi devono tornare nelle tasche dei consumatori, perché le multe, le sanzioni, inutile dirlo, che hanno pagato questi operatori non sono tornati fisicamente, soldi che sono tornati nelle tasche dei consumatori. Perché ancora reclamiamo e attendiamo? Perché non esiste nel nostro sistema la cosiddetta azione collettiva. Negli Stati Uniti d'America esiste una class action, cioè la possibilità di unire in un unico processo una classe di individui danneggiati nello stesso fatto, questo è l'esempio iconico di che cos'è un danno seriale. Tanto Antonello Piroso come Massimiliano Dona sono stati lesi nella stessa misura dallo stesso fatto, cioè dalla modifica della tempistica della periodicità delle fatture e entrambi non ricorreranno mai ad un giudice per, noi avevamo stimato, si tratta di un importo che ci spetta intorno ai 40, 30, 40 euro, dipende poi da quanto pagavamo il nostro servizio telefonico. Negli Stati Uniti una situazione del genere è invece oggetto di due diverse iniziative. Una, un'attività di rimborso per il solo fatto di essere coinvolti, cioè a te un bel giorno sarebbero tornati sul conto quei 40 euro senza doverti rivolgere ad un avvocato, ad un giudice o quant'altro. Ma c'è di più, negli Stati Uniti si sanziona l'offesa al mercato, cioè nel momento in cui l'antitrust, l'agico mi hanno statuito, questo non è più in discussione, che la pratica fu scorretta, tu hai tradito il mercato, hai tradito la pubblica fede, hai tradito la lealtà che ti deve infrontare i tuoi comportamenti. Negli Stati Uniti questo avrebbe fatto maturare un ulteriore danno che si chiama punitivo, cioè non solo tu rimborsi dona, piroso, rossi, verdi e gialli, ma in più paghi per aver architettato una pratica scorretta. Class action che naturalmente mutatis mutandis non può essere trasferita così come negli Stati Uniti nel nostro sistema che è diverso, è un sistema continentale, non dico Molloli, ci sono giudici elettivi e tutta un'altra storia, ma che, ti do la buona notizia per concludere questa storia, sta arrivando, naturalmente non avrà effetto sui 28 giorni che sono un fatto già accaduto, ma sta arrivando perché non solo l'Italia faticosamente sta per attuare una normativa, ma ho molte più speranze, l'Europa ha già pubblicato una direttiva sui danni seriali e le cosiddette azioni rappresentative. Dico sempre perché l'obiezione in questi anni è stata, ma caro Dona, siamo in una crisi tremenda, le imprese stanno soffrendo e lei pensa di introdurre un'azione collettiva. L'azione collettiva non è un'azione persecutoria, l'azione collettiva, io l'ho paragonata in un'audizione pubblica alla forza dirompente di un airbag. L'airbag che abbiamo nelle nostre auto è uno strumento molto pericoloso, esplode con una violenza notevole sulla faccia del guidatore, ma non a caso, quando quell'esplosione serve ad evitare un danno ulteriore e ben più grave causato dall'impatto del veicolo contro un muro. Ebbene, l'azione di classe serve a riparare questi danni, non è persecutoria, non si faranno azioni strumentali, nessuno vuole abbattere le corporation, ma quando le corporation fanno danni seriali da poco importo, tale che nessuno agirà individualmente consapevoli di questa impunità, ecco che bisogna azionare strumenti di tutela collettiva. Sul vostro sito ho letto anche della condanna nei confronti di Sky, di cui ribadisco sono abbonato e abbonato da più di 10 anni, perché durante il lockdown, quando le partite di calcio sono state sospese, non hanno, se non ho capito male, io posso parlare per me, quello che è successo a me, io incidentalmente seppi da una persona che lavora a Sky dicendo, oh ma poi verranno rimborsate le partite che non ho visto, ma lo dissi ridendo, dicendo, quindi aspetto che Sky che fa ottime campagne promozionali quando deve promuovere le cose sue, a cominciare ad esempio dal wifi, mi farà una campagna per dirmi che mi sta per rimborsare le partite che non ho visto, questo mi disse, Antonello guarda che i rimborsi sono già in atto, dico scusa ma non ho visto neanche uno spot, dice no non è stato pubblicizzato e dico scusa ma allora cosa devo fare? Devi andare sul sito, sull'area fai da te e cliccare che appunto chiedi il rimborso, ma fallo subito fra un minuto perché il rimborso poi scatterà dal momento in cui fai domanda, quindi se aspetti l'ultima settimana ti verrà rimborsata l'ultima settimana per cui non hai usufruito delle partite di calcio, quindi chi lo sapeva, non so come, si è portato avanti e ha cliccato subito, voglio il rimborso, all'inizio dei due mesi o del mese, quello che era, io che l'ho appreso in corso d'opera a campagna ormai quasi esaurito ho avuto un rimborso marginale, tutto bene Dona? Questo tema è molto interessante Antonello perché ha a che fare con due aspetti, uno quello della lealtà ancora una volta dell'impresa, in questo caso disponibile, poi ti racconterò perché, a riconoscere uno sconto, piccolo particolare me l'hai nascosto nei meandri del sito e l'antitrust, quindi non Massimiliano Dona o Antonello Piroso hanno dichiarato scorretta questa pratica, ma a monte c'è il tema della nostra consapevolezza come cittadini, perché fu riconosciuto il giusto diritto del consumatore di avere un indennizzo rispetto a un palinzesto, pensiamo allo sport, che si era asciugato rispetto a quando era stato venduto, era stato venduto con la promessa delle trasmissioni della Formula 1, del calcio, dell'europeo di calcio, della Champions League e poi lockdown, tutti questi eventi vengono interrotti. Qual è la dinamica? È quella della impossibilità sopravvenuta, cioè in tempo di emergenza tutta una serie di servizi contrattualizzati prima della crisi non potevano essere forniti e non per colpa di Sky, ma aggiungo neppure per colpa dell'operatore turistico che ti aveva venduto una vacanza, i voli erano stati interrotti, non potevi più andare in palestra eppure avevi un contratto con la palestra, è un caso di impossibilità sopravvenuta. I consumatori spesso in buona fede hanno detto vabbè, ma insomma come posso imputare una responsabilità al fornitore? Non è colpa della palestra se non posso più andare, è stata chiusa per ordine dell'autorità? Ebbene, il diritto in questi casi ha una risposta. Se la prestazione non può essere fornita, anche per colpa indipendente da chi era tenuto a fornirla, va rimborsata. È qualcosa con la quale i consumatori faticavano a fare pace perché in tutta buona fede il consumatore quasi si preoccupava di quel povero operatore dicendo ma non è colpa sua se la palestra è chiusa. Ebbene, è il diritto a dire che in caso del genere la palestra doveva rimborsarti e non a caso cito le palestre, abbiamo fatto delle battaglie contro i grandi network, non li voglio citare, ma insomma i più grandi network di palestre in Italia, ci sono non solo ribellata l'idea di rimborsarti l'abbonamento, ma alcune che ti avevano stimolato ad attivare un pagamento su carta di credito, su conto corrente, durante il lockdown di marzo-aprile continuavano a prelevarti i soldi dal conto nonostante la palestra fosse chiusa. Anche qui sanzioni dell'autorità, interventi nei confronti degli operatori perché devono rimborsare la vacanza non usufruita, la palestra e Sky deve rimborsare l'impoverimento del palinzesto che era stato venduto con dentro dei contenuti, questi contenuti non per sua colpa non potevano essere forniti ma era previsto un rimborso. Cosa fa Sky? Innanzitutto all'inizio non ne voleva per niente sapere di rimborsare, poi grazie ai nostri interventi e alle nostre pressioni finalmente si inventa questo rimborso, ma cosa fa? Lo nasconde nei meandri del sito. È un po' una storia simbolica, adesso abbiamo preso Sky ma vale per molti altri operatori che fanno questo branding esagerato, siamo vicini al consumatore, ci preoccupiamo delle tue esigenze, poi al momento opportuno spariscono e c'è poca sensibilità da parte di noi consumatori perché dovremmo essere bravi a punirli questi operatori. Va anche detto che Sky è quasi un monopolista per cui non è nemmeno tanto facile chiedere al consumatore di sdire quel contratto per sanzionare l'operatore scorretto. Sì, peraltro parliamo comunque di un'azienda che fattura 3 miliardi e 300 milioni di euro l'anno, quindi voglio dire capisco anche più… Ma lo sai, scusami Antonello, ma lo sai che gli operatori telefonici di cui parlavamo poc'anzi sono tutti in crisi? Cioè uno direbbe ma come? Io ho un'iperconnessione, ho il telefono, l'iPad, sono su internet in questo momento con te. Possibile che il tuo operatore telefonico abbia dei bilanci in rosso, ma lo sai perché? Si sono fatti male da soli. Gli operatori telefonici cinque anni fa ci fu un'estate che fu chiamata l'estate della guerra dei prezzi. Giocarono a inseguirsi tutti sul prezzo più basso e oggi ci raccontano, e io ne sono perfettamente consapevole che c'è un problema di tenuta del sistema. Ed è vero, ma caspita, tu non sei una start-up, tu sei Vodafone, tu sei Team, non puoi andare ad inseguire, anche perché cosa è successo Antonello? Che hanno inseguito da un lato il low cost, ma poi hanno dovuto comunque far fronte a delle necessità, dei bilanci, delle trimestrali e quindi hanno cominciato a riempire i nostri abbonamenti di servizi non richiesti, di attivazioni scorrette, ci sono beccate multe dall'antitrust. Il risultato è che in quella stagione viene fuori un operatore che arriva dalla Francia e che si presenta semplicemente per essere il no frills, cioè guardate ragazzi, io vi faccio pagare quello vi faccio pagare, ma onestamente. Ha distrutto il vecchio mercato, perché tu operatore con una grande reputazione ti sei fatto del male da solo, prima fai le offerte scontatissime e poi fai i tranelli per cercare di recuperare qualcosa. È chiaro che arriva in quel momento un operatore che si propone di essere trasparente e in qualche modo rispetta le premesse, pur essendo molto basico, il consumatore ne è innamorato. Oggi quell'operatore lì ha degli ambassador nei consumatori che si trovano bene con lui, che gli fanno una pubblicità pazzesca. Del resto è chiudo ringraziando Massimiliano Dona per questa mezz'ora insieme, confermo l'apprezzamento perdona e come avvocato e come presidente dell'Unione nazionale dei consumatori e come comunicatore, perché l'ho sentito, è molto efficace, poi non si nasconde dietro le parole e le perifrasi. Ricordo solo che 15 anni fa fui invitato da una grande compagnia telefonica 15 anni fa a fare una convention, l'amministratore legato mi disse adesso le dico una cosa che lei ovviamente non può usare in convention, ma ormai 15 anni fa il mercato è saturo e mi disse, giuro sulla testa di mio figlio Romeo che ha quasi 5 anni, mi disse ormai siamo a livello tale che io devo andare al cimitero monumentale, scoperchiare le bare e dire ai morti, oh la vuoi un'altra scheda SIM? Perché non sappiamo più cosa fare per vendere. Poi tempo dopo si scoprì che in effetti le schede SIM le avevano anche intestate ai morti per dimostrare che il fatturato reggeva. Va bene, adesso non entriamo in altri particolari, grazie Massimiliano Dona, grazie a Manuela Donghi che è in collegamento da Milano, il nostro direttore, anzi la nostra direttora o direttrice. Buongiorno a tutti, grazie anche per questa puntata molto interessante, peraltro soprattutto in questo momento storico insomma. Esatto, tutti noi siamo cittadini, elettori e consumatori, vogliamo consumare? Fateci consumare senza prenderci troppo per i fondelli. Grazie Massimiliano Dona, grazie a Manuela Donghi, appuntamento a domani alle 10 con Claudia Gerini. Buona giornata a tutti.